Il cappotto fa il giro su fuori e poi gli stessi appartamenti Adesso fa il giro per vedere se il cappotto ha testo o fanno bene Il cappotto fa il giro Ma su hai lasciato qualcosa? No Quindi tu come geometra per i lavori da fare sei a posto Si Esatto Quindi poi chi vuole cambiare i serramenti a posto zero Me lo deve dire Te lo deve dire Se no non può più accedere poi ai benefici Altrimenti Finiti questi lavori non potrà più pagherà Non può ancora pagare i serramenti Così vengono ancora i gratis Mentre così era l'opportunità per avere Anzi torna indietro il 10% del posto Quindi per ora i rilievi che hai fatto ti bastano anche poi? Sì Poi Io vi dico cosa c'è da fare Ho fatto un voto deciso allora magari potrò fare qualche indagine in più E quindi in quel caso dovresti però accedere a tutti gli appartamenti Che aderisce soprattutto i serramenti si deve aderire a tutti gli appartamenti E' il 26 gennaio 2016 era la simulazione delle 16 Tutti i giorni alle 16 Tutti i giorni alle 16 fanno la simulazione Questa era la simulazione delle ore 16 Del 26 gennaio 2021 Tanti saluti a tutti Sono Tough Not No Angels Tanti saluti a tutti